La gente dello svedese ha confronto con Boban e Maldini. Zlatan deciderà il proprio futuro a metà dicembre e il Milan dà il via all'operazione per il ritorno di Zlatan e Ibrahimovic. Si è tenuto oggi un incontro tra Boban, Maldini e la gente dello svedese, Mino Raiola, per studiare la fattibilità dell'operazione. Ora si attende un contatto diretto tra i dirigenti rossoneri e Zlatan, che, dopo aver deciso di non rinnovare l'accordo con i Los Angeles Galaxy, ha fatto capire che stabilirà il proprio futuro entro metà dicembre. Il Milan ora studierà una possibile struttura dell'operazione per arrivare alla fumata bianca. Nei giorni scorsi per Ibrahimovic si era fatto avanti anche il Bologna, con Divaio che, aveva raggiunto l'attaccante direttamente a Los Angeles. Non solo Ibra, già a pranzo, in un albergo vicino alla stazione centrale di Milano, Boban si era incontrato con, Raiola e, curiosamente, anche con Jorge Mendes. Da non dimenticare che, l'agente italiano cura già gli interessi di quattro giocatori della rosa-rosso-nera, Donnarumma, Romagnoli, Buonaventura, il cui contratto è in scadenza a giugno 2020, e, sebbene non ancora ufficialmente, suso.copyright riproduzione riservata Let's Block Ads. Grazie a tutti.